Musica Terzo appuntamento con la rubrica del dottor Giorgini, la rubrica del benessere. Oggi parliamo della pianta del boldo. Sono con noi nel studio Beatrice, la dottoressa Beatrice Giorgini e il dottor Martino Giorgini. Allora, questo boldo dice, gli appunti che ho a disposizione, che è una pianta che può aiutare tutti. Perché? Sì, aiuta tutti perché aiuta principalmente per i problemi digestivi che sono forse uno dei disturbi più comuni nella popolazione. Il boldo aiuta sia a favorire la digestione in modo diretto perché aiuta proprio a produrre più saliva e più acido cloridrico, quindi il succo digestivo dello stomaco, quindi la prima fase della digestione, però aiuta anche a produrre più bile che è coinvolta nella seconda fase della digestione e dell'assimilazione dei nutrienti, quindi ha una funzione veramente importantissima e spesso anche sottovalutata. Infatti tantissime volte i problemi digestivi in realtà hanno un'origine legata più a un problema di insufficienza biliare, e quindi insufficiente produzione di questo succo biliare che è coinvolto nella digestione. È una pianta fra l'altro che non è originaria dell'Europa, giusto? No, è una pianta che arriva dal Cile e dal Perù. Quindi come avete fatto a scoprirla? Da ricerca immagino. Da ricerca? Ma se devo dire un breve aneddoto, spero, questo mio amico che era andato in Brasile aveva avuto problemi di stomaco e ha detto che siccome si trovava in una zona dove non c'era un farmacista, il taxista dice eh ti porto io da un erborista, dice io ho preso questa tisana e mi ha passato, ha detto ma come si chiama? Non lo so, allora cosa mi raccomando? Dice no ma ho le foglie in frigorifero, come ha fatto vedere le foglie? Ma questo è boldo. E quindi ho cominciato a ragionare su questa pianta e ho fatto un prodotto, ho capito perché, che poi nei libri c'è scritto, ma a volte non ci si fa caso, i libri di medicina, perché fa bene la digestione allo stomaco pur agendo principalmente, sì anche sul fegato. Quindi voi lo fate arrivare dal Sud America, in questo caso fino a Marrani dove avete l'azienda. Sì, sì, viene coltivato, è un sempreverde, si raccoglie tutto l'anno e vengono seccate e spedite un po' a tutto il mondo. Dottoressa Giorgini, noi siamo in Romagna dove si mangia bene e volentieri, no? Allora le chiedo, il boldo va assunto prima o dopo? Perché uno dice, ah tanto ho il boldo. Io quando vado a mangiare fuori lo prendo sia prima che dopo, così sono sicura di digerire qualsiasi cosa. Ma allora, se uno sa comunque che mangerà abbastanza pesante, è consigliata l'assunzione anche prima, proprio quasi come un aperitivo che prepara già la digestione. L'ideale è prima perché a stomaco vuoto si ha un'assimilazione anche più rapida di quelli che sono i contenuti della pianta, il fito complesso. Se poi non è possibile, va bene comunque assumerlo anche dopo. L'importante è assumerlo perché è veramente indispensabile per chi ha problemi di digestione. Ma questa pianta, leggo, è anche un depuratore del sangue e anche un antidolorifico? Sì, ha comunque un effetto di depurazione del sangue perché ovviamente andando a digerire sia sulla digestione che sulla funzionalità intestinale promuove l'eliminazione di tossine, di scorie e quindi anche la pulizia del sangue che ha origine prima di tutto nell'intestino perché un intestino che non è pulito ovviamente va ad intossicare tutto l'organismo e tutto il sangue. Come lo lavorate, dottor Giorgino? Viene estratto in tre momenti, proprio per estrarre prima le sostanze liposolubili, poi quelle solubili nell'alcol e poi quelle nell'acqua. Questi estratti vengono poi concentrati sottovuoti, riuniti, si concentra fino a una certa... si decide in modo che c'è la dose nel misurino, poi finale c'è la dose giusta e corrispondente delle foglie. E anche qui bisogna sempre ricordare di agitare bene perché se si guarda contro luce si vede che ci sono delle sostanze proprio resinose oleose che si attaccano e altre che vanno sul fondo. Senta, quando si prendono dei digestivi o comunque dei prodotti per digerire meglio, poi c'è il rischio di andare troppo spesso in bagno. Questo dà controindicazioni? No, questo non è un lassativo, anche se la bile comunque aiuta un po' l'intestino, la motilità intestinale, ma la bile nell'intestino ha tantissime funzioni, oltre che a favorire la digestione in maniera indiretta, come poi magari potrà spiegare meglio Beatrice, è anche antiputrefattivo, antifermentativo intestinale, quindi indirettamente vanno meno tossine nel sangue, in circolo. Mi conferma dottoressa? Certo, ha un'azione proprio sulle putrefazioni e le fermentazioni intestinali, ma anche sulla regolazione della produzione del muco che ricopre le mucose dell'intestino, che è molto importante perché deve essere sempre in equilibrio. Se c'è troppo muco ci sarà del catarro, se c'è troppo poco muco le mucose si asciugano e quindi si infiammano. Questo vale per le mucose intestinali, come per tutte le mucose dell'organismo. È molto importante, come dicevamo prima, per la digestione perché ha un'azione di regolazione del transito proprio del contenuto gastrico. Infatti c'è una valvola che divide lo stomaco dal tratto successivo che si chiama duodeno che si apre quando il pH diventa alcalino. Il pH diventa alcalino quando viene rilasciata questa bile che ha appunto un pH basico e fa sì che poi il cibo che è parzialmente digerito possa transitare a livello duodenale. Se ciò non accade perché appunto c'è un'insufficiente produzione di bile, cosa succede? Succede che il cibo rimane troppo a lungo a livello gastrico, crea questo senso di pesantezza, di digestione lenta, anche di rigurgito acido. Quindi ci può essere poi i problemi di acidità di stomaco, di gastrite che tante volte vengono curati soltanto dando dei sintomatici e andando ad agire sullo stomaco. Difficilmente si pensa che ci possa essere appunto a monte questa insufficienza biliare e quindi si va a curare la vera causa di questi problemi digestivi. Esco un attimo dal tema delle erbe perché lei è medico naturale e si occupa anche di agopuntura. Anche l'agopuntura può favorire una corretta digestione? Beh, l'agopuntura è indicato praticamente per tutti i tipi di disturbi. Ecco, diciamo che per certi aspetti preferisco la fitoterapia, per altri può essere più indicato l'agopuntura, ad esempio per il suo effetto soprattutto analgesico, quindi per i dolori, anche dolori di tipo muscolo scheletrico, nervoso, quindi sciatica, cervicalgia, eccetera. Dottor Giorgini, perché consigliare un prodotto naturale delle erbe e non il classico prodotto da banco di farmacia per la digestione? Ma prima di tutto perché questo va all'origine del problema dello stomaco. Ecco, come accennava lei, il medico si concentra molto sui giustamenti, bisogna aiutare anche lo stomaco, ha acidità, ha rigurgiti acidi, ha dolore collenaietale, che a volte viene confuso con angina pectoris, ma il problema a volte è proprio a monte, la bile è in una soluzione di bicarbonato di sodio, come anche il succo pancreatico, quindi quando arriva a contatto con quella famosa valvola, questa si apre, il cibo passa. Se invece non c'è abbastanza bile, questa valvola rimane chiusa, il cibo passa con bevande gasate e mi si permette qualche ruttino, qualche cosa, poi rimanendo il cibo molto lungo, poi può dare anche questa acidità. Ma inoltre, producendo più bile, il componente principale della bile è il colesterolo, quindi si abbassa anche il colesterolo e quindi si hanno due o tre azioni contemporaneamente benefiche. Consigliato sempre o nel caso in cui si eccede nel mangiare? Questo si può prendere anche sempre, proprio perché credo che l'insufficienza biliare sia una cosa comune, non dico al 100%, ma al 99% probabilmente. E a livello di età, per i bambini, gli anziani? Adesso per i bambini questo magari non è particolarmente indicato, più che altro per il sapore che non è gradevole. Però c'è un dolcificante, voi avete prodotto anche uno zero calorie dolcificante. Certo, si può dolcificare, anche se per i bambini ci possono essere cose magari più indicate, però ovviamente può essere preso senza rischi anche dai bambini, anche dalle donne in gravidanza, che tante volte hanno problemi digestivi, nausea, vomito, comunque bocca amara e ovviamente dagli adulti e dagli anziani. Questo era il boldo che arriva dall'America del Sud, per fare una confezione così quante piante serve? Servono 100 grammi di foglie. Grazie di averci seguito con la rubrica del Dottor Giorgini, alla prossima puntata.